cosa si mangia? e noi faremo una caprese molto particolare perché invece del pomodoro ci mettiamo il melone e questa mozzarella che ha dal gusto molto intenso e morbida e morbida questo qui è fresco, fresco, si è fresco, esatto, torto di fiesole, buonissimo, il prosciutto è buono, quasi finito, quasi, quasi, un po' di sale, buon appetito